Un sacco di italiani pensano che il turismo sia il nostro petrolio. Benvenuti e bentornati cari follower pettinati. Come al solito è riccio di mare a parlarvi, scherzo chiaramente, andiamo un po' a sdrammatizzare la situazione, mi dissocio, ma andiamo al nocciolo del nostro argomento di oggi, ovvero il turismo, la crescita economica e quindi questo benedetto petrolio che in tutte le stati viene santificato. E ne abbiamo parlato qualche settimana fa in relazione ai balneari e vi rimando a quel video, se per caso non l'avete visto, in cui andavo un po' a analizzare quale fosse l'ipotetico guadagno, cioè la differenza tra entrate e spese. Volevo quindi chiudere quel discorso che, sì, era molto interessante, ma probabilmente era monco di tutta un'altra parte che riguardava il turismo più ingeneris, visto che il tema è ancora al centro del dibattito per qualche ora. Piccola premessa, come dicevo nel video sui balneari, è abbastanza evidente che nel turismo esista questa differenza tra entrate e uscite e che questa differenza sia positiva, ovvero che ci sia un guadagno. Questo è fuor di dubbio, sia prima che dopo le imposte, salvo le rarissime eccezioni. Aggiungo inoltre che girando un po' tutta Europa ci si accorge che ci sono ampi effetti di miglioramento, ampi margini per poter rendere questo settore ancora più profittevole, soprattutto in quelle aree depresse del paese. Ci sono tante aree, soprattutto in Campania, ultimamente negli ultimi 7-8-10 anni, che c'è stato un effettivo miglioramento. Tuttavia, questo miglioramento, vuoi in Campania, come vuoi in tutto il resto d'Italia, in Sardegna e via discorrendo, ora non mi metterò a fare l'elenco da Salvini, però appunto il fatto che ci sia l'esistenza di questo guadagno, nulla dice sulla qualità del settore e sul benessere che può apportare all'intera comunità. Perché quando si dice che il turismo è il nostro petrolio, il sottostante di quelle parole è se ci fossero più investimenti sul turismo, ecco che potremmo avere tutti, tutta l'intera comunità italiana, un ritorno economico e anche, se volete, un ritorno di carattere sociale, un benessere. Ponendo la domanda ancora peggio, ci si potrebbe chiedere Ma è vero che se investiamo nel settore turistico, come fanno altri paesi, ad esempio, ogni tanto si dice sta roba, anche se forti perplessità che in verità si investa tantissimo in altri paesi, però se investiamo in questo settore, che cosa possiamo ottenere? L'investimento può portare a una crescita dei salari sia dentro questo settore, sia fuori dallo stesso, e, dal punto di vista sociale, se questo eventuale investimento porta effettivamente a un benessere nel settore, un benessere di carattere sociale e un benessere fuori da questo settore. Quindi la domanda è molto specifica e non è più quindi una butad lanciata lì dal politico di turno per invogliarci a votarlo, sostenerlo nella prossima campagna. Se fosse così, e quindi già questo un primo tema, dovremmo quantomeno avere evidenza che nel settore turistico si guadagna bene, meglio rispetto a tutti gli altri settori. Partiamo quindi da qualche evidenza. Ecco, una prima evidenza è questo paper che va a indagare appunto cosa succede su tre coste statunitensi, ve lo lascio come al solito qua sotto in descrizione, se volete andare nel dettaglio, ve lo traduco velocemente. Cos'è che ci dice in breve? Ci dice che i redditi derivanti dall'occupazione nel settore turistico sono principalmente nelle fasce di reddito più basse. Quindi chi lavora per il settore turistico, il salariato, non guadagna tantissimo. Parrebbe da questa prima evidenza. Ne ha scritto anche Riccardo Trezzi qualche giorno fa sul Twitter, o su X se preferite, e ha mostrato in modo abbastanza lampante che nonostante le basse retribuzioni italiane, ne parliamo da tempo, c'è un video in cui spiego un po' perché l'economia italiana è stagnantissima, ve lo lascio magari qua nelle schede. Ecco, nonostante la bassa crescita dei salari italiani, ecco, i servizi di ristorazione, ma anche quelli di hotel e vi discorrendo, crescono molto meno rispetto ad esempio alla manifattura, alla ricerca e sviluppo. Questi sono dati Istat, magari vi lascio anche qua sotto il dataset dell'Istat se volete andare più nel dettaglio. Ma non solo, Riccardo si è impegnato, è andato a prendere anche qualche dato di confronto. Qui vi lascio poi il thread qua sotto in descrizione, o comunque lo trovate facilmente sulla pagina di Riccardo. Ecco, è abbastanza evidente che le retribuzioni orarie reali del settore turismo siano veramente basse e in depressione anche rispetto ad esempio Stati Uniti, Francia e via discorrendo. Riccardo ha fatto tanti confronti, andateli a prendere. Ma questo perché, uno si può chiedere giustamente, uno si chiede sì, ok, ma perché accade questo? Beh, è abbastanza banale, c'è molta letteratura sull'argomento se siete interessati. Ad esempio ci sono diversi interventi di Modica, ve li lascio qua sotto in descrizione. Ce n'è uno interessante in particolare, che io tra l'altro citai durante la mia tesi di laurea, quindi mi torna utile richiamarlo. Comparso sulla voce.info, scritto insieme a Tommaso Monacelli, entrambi economisti. Ecco, qui Modica dice una cosa che secondo me è fondamentale per capire, diciamo, il perché l'economia non può basarsi sul turismo. Perché, come dice Modica, un aspetto ancora più sorprendente è che ognuno di questi lavori in settore ad alto valore aggiunto genera in media cinque posti di lavoro in settori tradizionali, generando servizi locali non tradable, quali barbieri, ristoratori, insegnanti di yoga, architetti, avvocati pubblicitari. Detti in altri termini, dice Modica, è più conveniente essere un falegname, un ristoratore a Milano piuttosto che a Campobasso. Questo perché? Perché il settore turistico viene trainato da altri settori, ha più alto valore raggiunto. Quindi se torniamo indietro a una delle nostre prime domande, ci chiedevamo, ma effettivamente il settore turistico, se gli diamo più investimenti, può portare a una crescita economica maggiore di reddito in media anche agli altri settori? E la risposta è no. Perché è un settore trainato e non trainante. Ed è per questo che se, ad esempio, andiamo a prendere la spesa pro capite dei turisti stranieri, ecco, questa ci racconta, ad esempio, che si spende molto di più in Veneto, in Lombardia, in Toscana, in Trentino Alto Adige, rispetto a luoghi che, per loro natura, dovrebbero avere una maggiore vocazione turistica. Come, ad esempio, la Sardegna, la Campania, la Sicilia, e via discorrendo, insieme a tutte, poi, le regioni del mezzogiorno. Ci rimane un ultimo tema da discutere, ovvero quello del benessere, il benessere diffuso. Qui è abbastanza banale. Sul turismo è difficilissimo fare economie di scala. Non soltanto per vincoli burocratici, ma proprio anche per vincoli naturali. A meno di non volere incorrere in fenomeni come quello del overtourism, che quindi ha un effetto importante, poi, su tutto il resto della popolazione. Faccio un esempio personale, oltre alle statistiche. Io, quest'estate, fra le varie mete che ho raggiunto, c'è stata Creta. Mi sono fatto la mia bella settimana abbondante a Creta. Tra le attrazioni principali di Creta, le attrazioni turistiche principali, troviamo Balos, Palasarna e tante altre piccole calette, veramente, veramente belle, spettacolari, che, quando le vedi, rimani estasiato. Queste io ho scelto di non andare a visitarle. Perché? Perché sapevo che l'utilità che avrei estratto da queste bellissime parti di Creta sarebbe stata inferiore rispetto ad altre, come ad esempio Glicanera, per citarne una. Queste zone di Creta vengono prese d'assalto dai turisti e quindi non riesci a godertela. Allo stesso modo, una delle mie peggiori vacanze è stata a Santorini. Bellissima Santorini, ben inteso. Però, se pensiamo a Oia, Ia, la Red Beach, chiunque di voi ci sia stato saprà certamente di che cosa sto parlando. Ecco, ci si rende conto che è impossibile usufruire della bellezza del territorio. Perché? Perché c'è troppa gente che riduce, quindi, la mia utilità nel visitare questi luoghi che, veramente, sono da mozzafiato. Eppure tra i più benessere da altri luoghi meno visitati, meno affollati e vedi scorrendo. È normalissimo, ci mancherebbe. Però capite bene, quindi, che il benessere nel turismo esiste, ma non può essere scalato. Non facilmente. Arriviamo all'ultimo punto che è sottostante, diciamo, alla nostra discussione. Si tratta di investimenti. Investimenti e turismo di nicchia. Se ne è parlato anche in relazione all'ultima puntata del Dream Dream. Qualcuno mi ha chiesto, vi discorrendo. Io ho risposto, ho buzzato una risposta, diciamo, velocemente, perché ancora ero in ferie. Però, tornato dalle ferie, diamo una risposta un pochino più seria qua. Finché è un imprenditore con capitale proprio che decide di investire sul turismo per crearsi una bella nicchia in cui vende a prezzi un pochino più alti della media, in cui cerca, quindi, il turista di lusso, passatemi questo termine. Ecco, va benissimo. Non c'è alcun problema, almeno dal mio punto di vista. Anzi, sono molto contento se un investitore decido di portare denaro in Italia. Benvenga. In Italia abbiamo pochissimi imprenditori. Quindi, benvenga se c'è qualcuno che sia alzardo a fare imprese in Italia. Lungi da me a fermare il contrario. Diverso è quando si dice usiamo i soldi pubblici per investire in questo settore. Perché qui poi, oltre il discorso che abbiamo fatto in precedenza, nasce anche un altro dilemma etico. Cioè, essendo che la fiscalità generale viene alimentata per la fetta più rilevante dall'IRPEF dei lavoratori dipendenti, quindi sono persone che tendenzialmente stanno nella parte più bassa della distribuzione dei redditi. Ecco, utilizzare quei soldi per creare infrastrutture che poi indirizzano servizi a chi ha un reddito mediamente elevato e non genera questo grande aumento di salari, ne ha effetti trainanti sul resto dell'economia. Ecco, io ho forti perplessità che questa sia la scelta giusta. Non ci sono evidenze che tutto ciò porti a una crescita economica, quindi diffusa, di cui tutti possano goderne. Se proprio vogliamo essere precisi, c'è un piccolo paper di Banca d'Italia che mostra che in alcuni contesti ci potrebbe essere una crescita veramente marginale. Ma parliamo veramente di situazioni eccezionalissime, per cui da queste eccezioni derivare un caso mediano o comunque una baseline mi pare una forte assunzione. Quindi, per ora, l'evidenza economica o comunque i dati ci suggeriscono che il turismo non potrà mai essere petrolio. Quello che può essere petrolio sono investimenti sulla frontiera tecnologica, sono investimenti nel settore digitale, sono investimenti, quindi, che portano effettivamente valore aggiunto. Purtroppo qua in Italia non vogliamo farli. Preferiamo andare ancora dietro a questi discorsi su turismo. Potremmo vivere soltanto grazie al nostro patrimonio turistico e tante altre belle cose. È difficile che ciò avvenga, non c'è nessuna nazione al mondo che riesce a fare una cosa di questo tipo. Purtroppo, è brutto da dire, ma la ricetta è sempre quella della frontiera tecnologica. Se si vuole crescere bisogna puntare a ricerca e innovazione. Non esistono altre formule magiche e, tra l'altro, ricerca e innovazione non sono nemmeno pasti gratis. Servono tanti soldi, tanti investimenti, serve un percorso lungo, duro, e forse per quello che ci piace di più. La favoletta del turismo in pochi minuti risolleverebbe le sorti dell'Italia. Io direi che è tutto per oggi. Statemi discretamente bene. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo. E alla prossima. Ciao.